Poi conservata e ripiegata. Una goccia d'argento fuso della teca in cui era riposta cadde in un angolo danneggiandola. In seguito fu salvata e rammendata dalle suore. Ulteriori danni provocati dal fuoco. Questa L, formata da una serie di fuori simmetrici, si ripete per ben quattro volte, segno evidente che il lenzuolo era stato conservato ripiegato. Sulla tela sono presenti delle macchie dovute ad almeno due incidenti provocati dall'acqua. I bordi in passato sono rinforzati.